Il tempo è una danza, è un intangibile susseguirsi di eventi, un lento trasformarsi di azioni e di gesti che, accumulando i nostri ieri, costruiscono il nuovo oggi. Il tempo non scorre mai uguale a se stesso, non credete alle bugie ritmate delle lancette di un orologio, ascoltate piuttosto i battiti del cuore, che accelerano quando un'emozione scandisce le nostre ore, che avanzano placidi quando razionalità e pensiero prendono il sopravvento. I giorni sono battiti di cuore, gli anni le vite degli uomini. Dal 1970 la CBF Balducci Group ha tessuto trame di vita, intrecciando i fili dei 900 volti che oggi compongono il suo patrimonio più importante, il suo capitale umano. Le radici ben salde nel territorio maceratese, nelle sue tradizioni fatte di fatica, di rispetto del lavoro, di calore e di sorrisi. Lo sguardo da sempre teso verso orizzonti ogni giorno più ampi. Vivere è costruire, è una danza imperenne ed armonico movimento, è individuare obiettivi, raggiungere mete, un progetto alla volta, un capo alla volta, mettendo al centro del proprio pensiero sempre i bisogni dell'uomo, personalizzando prodotto e servizio per ogni cliente, non dimenticando mai il lavoratore da proteggere, la funzione da svolgere. Io, la CBF Balducci Group, sono qui perché ognuno di voi ha scelto di essere chiave di volta che mi sorregge, nota necessaria dello spartito che ci fa danzare. Guardatevi l'un l'altro, scambiatevi un sorriso. Non abbiamo bisogno di altro per guardare fiduciosi al futuro, per trovare la forza necessaria ad affrontare con coraggio la complessità del domani, per scrivere insieme una nuova pagina della nostra gloriosa storia. Il tempo è una danza. Danziamo insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti.